Giorni decisivi per il cambio di colore regionale. Le Marche cominciano a vedere da vicino il passaggio da zona arancione a zona gialla già dalla serata di giovedì 3 dicembre. Un cambio cromatico cucito sul filo diretto della conferenza Stato-Regioni. Salvo colpi di scena, giovedì sera saremo di nuovo a zona gialla. Così ha rassicurato attraverso il proprio profilo Facebook il vicepresidente della giunta regionale Mirko Carloni che ha rappresentato le Marche alla conferenza Stato-Regione in luogo del governatore Francesco Acquaroli impegnato in un webinar di Confindustria. Esultanza social molto simile anche per un consigliere regionale d'opposizione come Michela Vitri. Il passaggio a zona gialla, che per le Marche correrebbe di pari passa quello dell'Emilia Romagna, transita in queste ore per l'esame del governo verso la stesura di un nuovo DPCM. Ma le Marche durante la conferenza Stato-Regioni hanno proposto anche altri correttivi, ad esempio che bar e ristoranti possano rimanere aperti anche a cena. Insomma, l'intenzione di passare da una zona arancione, che esclude ogni servizio diverso da quelli di asporto e consegne a domicilio, ad una zona gialla più soft rispetto a quella che tre settimane fa prevedeva che i ristoranti potessero rimanere aperti a pranzo con chiusura alle 18. Insomma, l'intenzione espressa è quella di equiparare bar e ristoranti ai negozi, cioè con aperture prolungate fino alle 22. Le Marche sono attualmente classificate come regioni a rischio moderato di contagio con RT minore di 1, il che significa che una persona può contagiarne un'altra, ma che dunque le probabilità di contagio sono ben inferiori ad altre aree geografiche.